Io sto con i perdenti e riesco anche a perdere tempo. Se si potesse scegliere un lavoro, noi sceglieremmo di fare carezze. Se si potesse scegliere tra soldi e tempo, sceglieremmo il tempo. Se si potesse scegliere tra benessere e essere, sceglieremmo l'essere bene. Mi chiedo se c'è un mondo dove potremmo vivere. Un mondo che non consideri il vantaggio come l'unico scopo del pensiero. Una terra che non ci consideri inutili. E io credo che utili siamo noi, i viaggiatori di seconda classe. Pesi minimi, leggero contrappeso, allo splendente e anche un po' arrogante. Trionfo dei vincitori. Ne risparmiate mille e mille sospiri e deponetemi lì, in un luogo nascosto così. Che nessun amante infelice ne ritrovi il posto e lì versare lacrime e deliri. Crese minimi, leggero contrappeso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.